Vi faccio vedere il continuo del mio acquisto da cristalline, sempre colori autunnali, invernali, io amo l'inverno ragazza, a me le estate ne butta giù tantissime. Ho preso anche queste da cristalline per trovarle perché non ho mai fatto lavoro con questo tipo di berline e vediamo come mi trovo, li ho presi in due colori diversi perché il verde mi piace tantissimo, diciamo che è il mio colore preferito perché ce ne sono molti tra i miei preferiti, questo è uno particolare, questo qui mi ha colpito perché non ho mai usato questo tipo di colore e volevo provarlo, ho preso anche questo che è molto particolare, ho preso altre perle, ho preso varie perle di dimensioni diverse, ho preso anche i fili però mi devono arrivare perché aveva finiti. Quello che vi piace commentate e vi do i codici perché qui non è che si vedono molto bene col telefonino, io provo a avvicinarmi ma non si vedono molto bene, si vedono più i colori che i codici.